Abbiamo dato un'occhiata quest'anno anche a Reginald Denny, uno degli attori più importanti per Universal Studios nel periodo 20, anche uno degli attori comici più importanti, non per slapstick, ma per una commedia più sofisticata, insieme con il suo compagno dello schermo Laura LaPlante. Abbiamo alle 17.30 Skinner's Dress Suit, una commedia geniale, ma anche una delle cose da sottolineare a proposito di Denny è che lui non era solo un attore, ma anche all'inizio un pugialista, anche una cosa veramente straordinaria, un inventore. Lui ha lavorato con aeroplani e nel periodo della Seconda Guerra Mondiale è diventato un inventore per il governo degli Stati Uniti e lui che ha inventato la tecnologia per i droni. È una storia incredibile, ma grazie a lui, grazie a questo attore, a questo comedian, negli anni 20 abbiamo la tecnologia per i droni.